come suonare la batteria con le mie bacchette artigianali fatti di bastone di alloro oggi andrò a suonare un club con queste mie bacchette che ho costruito artigianali sono molto robuste fatti artigianali con piante di alloro logicamente non sono proprio dritte alla perfezione perché sono fatti di rame di alloro quest'oggi vi voglio fare una piccola dimostrazione per trovare le bacchette artigianali logicamente farò un piccolo club grazie a tutti 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 perfetto ragazzi vedo che le bacchette artigianali hanno durato non si sono spezzate perché sono molto robuste ho usato un groove per non sbattere troppo ho usato anche una certa dinamica grazie a tutti 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 possiamo non è proprio dritta alla perfezione possiamo misurarla questa bacchetta qui mentre invece questa acqua è molto più dritta di dell'altra parte un pochino pastorta bacchette artigianali che iraniche all'oro beh ragazzi se vi è piaciuto il video spolliciate tutti scrivete sotto nei commenti scrivete cosa ne pensate ciao